No, clamoroso no, perché se fosse clamoroso sarebbe stata una sorpresa. In realtà noi abbiamo lavorato per questo risultato. Certo, è un risultato che ha dei connotati di storici nella storia in sedicesimi della nostra regione. Siamo andati al voto in 26 comuni dove la percentuale di popolazione amministrata fra i comuni che erano chiamati al voto dal centro-destra era del 6%. Stamani mattina i ballottaggi ci lasciano una Toscana che per il 50% è amministrata l'amministrazione del centro-destra e anche altre amministrazioni. Il PD le ha perse, insomma, Sansepolcro, una lista civica dove vi sono delle evidenti convergenze programmatiche con noi, Sesto Fiorentino dove ha vinto una serie di liste di sinistra, Roccalbegna dove c'è una lista certamente non del PD. Quindi sono più cittadini che amministrano il centro-destra nei 26 comuni chiamati al voto rispetto a quelli che amministrano il Partito Democratico. Noi abbiamo lavorato per questo risultato partendo dal presupposto che un centro-destra unito con una presenza moderata e quindi di Forza Italia da protagonista e con la capacità di sapersi aprire a realtà civiche che esistono o che sono state create sul territorio su prospettive chiaramente alternative al sistema di potere del Partito Democratico fosse una formula vincente. La formula, tra l'altro, non è che l'abbiamo... non si inventa niente, insomma. È la stessa formula con cui abbiamo vinto l'anno scorso a D'Arezzo che era l'unico comune e capologo di provincia chiamato al voto a Petrasanta. E anche quest'anno a Grosseto che è l'unico comune e capologo di provincia il centro-destra si è di nuovo affermato, l'ha fatto a Montevarchi, l'ha fatto al primo turno ad Orbetello, a Pontremoli, Isola Capra... Sette comuni vinti rispetto a tre che avevamo prima del voto. Quindi è una formula importante, credo anche però che ci sia un dato politico. Il dato politico è che anche rispetto a ciò che sta avvenendo e avvenuto a livello nazionale qui in Toscana è evidente che il Movimento 5 Stelle è in grado di prendere consensi importanti ma non è ad oggi in grado di rappresentare un'alternativa vincente rispetto al sistema di potere del Partito Democratico. Questa è una responsabilità che continua a competere al centro-destra e mi sembra che mai come in questa stagione il centro-destra la sappia interpretare al meglio. L'altro dato forte è che qui in Toscana evidentemente, non perché siamo più intelligenti ma perché abbiamo una consuetudine che viene più da lontano, conosciamo meglio Renzi rispetto ai nostri concittadini di altre regioni. Quindi evidentemente certe valutazioni abbiamo avuto più tempo per farle e credo che in questo voto ci sia oltre al premio di programmi e di candidati espressi dal centro-destra ma ci sia anche una sonora bocciatura rispetto alle politiche del governo Renzi. E voi adesso puntate dritti al referendum di ottobre per mandare a casa Renzi? Io come Forza Italia ho già organizzato i comitati per il no, questo è evidente. Poi Renzi ha voluto dare fuori sincrono rispetto a ciò che avveniva fuori dal Palazzo Chigi perché non aveva capito che già stava cambiando il quadro rispetto alla sua posizione ha voluto dare una connotazione politica, proprio un plebiscito sulla sua persona. Credo che questo risultato non solo della Toscana ma anche a livello nazionale lasci aperta una strada importante rispetto alla bocciatura di un referendum fatto a colpi di maggioranza e di una modifica costituzionale fatta a colpi di maggioranza e quindi una bocciatura sonora al referendum di ottobre. Comunque un passo alla volta. Io credo che oggi ci sia da approfondire, da analizzare e da comprendere ciò che è avvenuto che per la Toscana è qualcosa di clamoroso. Mai il PD in una tornata amministrativa aveva avuto una battuta d'arresto di queste proporzioni e mai il centro-destra in una tornata amministrativa aveva avuto successi di queste proporzioni. Di Alto Pascio cosa dite? Alto Pascio mi sanguina al cuore. Mi sanguina al cuore perché sarebbe stata veramente la perfezione ma evidentemente vi è un disegno divino per cui non si può stravincere però spiace per gli amici di Alto Pascio. Lì è paradossale perché lì hanno talmente governato bene negli anni i nostri amici di partito hanno governato Alto Pascio da far crescere la città. In questi cinque anni ha superato la soglia dei 15.000 abitanti se avessero governato meno bene sarebbe stato sotto soglia avremmo vinto al primo turno perché al primo turno avevamo preso il 47%. Spiace, spiace. Quando si vince si festeggia, quando si perde bisogna fare anche un'analisi e quindi faremo un'analisi del perché non abbiamo confermato una città che era una città storicamente di centro-destra. C'è anche un altro dato che però è abbastanza preoccupante nel senso che in Toscana è andata meglio però l'affluenza in generale alle urne da parte dei cittadini non è stata altissima, c'è stato un nuovo calo. Secondo lei perché c'è questa continua disaffezione in confronto alla politica? Ma io mi rendo conto che non va molto di modo che lo sto per dire ma non è che è un problema dell'Italia. Le democrazie mature, se uno ha la pazienza di aprire qualche manuale di scienza della politica trova immediatamente che è così. Poi evidentemente tutti vorremmo ci fosse il 90% di voti ma in Nord Corea votano tutti. Nelle democrazie mature i cittadini decidono anche a volte di non andare a votare. Certo, un dato significativo di astensionismo credo debba porre delle domande a chi fa politica nel cercare di capire perché non si riesce a portare i cittadini a votare e quindi poi portandolo a votare a votare per i nostri candidati.